Mi è morto gli ho ricontanfatti e mi è successo ieri. Mi ha detto a papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirai a me mi sei allargato il cuore, io e i miei figli a Via Veneto, poi chi me la guardava. Mentre se stava a guardare la patrina delle scarpe, passano tutti i giovanotti e dicono una frase che a me non mi è piaciuta. Io mi ci dico, la cornuto! Via qua, la cornuto! È venuto tutto, spavardo il più grosso, mi ha dato un cassotto in buca. Me lo so guardato. Ho sputato e gli ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuto in guardia. Gli ho dato un tasto in buca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo. Gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo alzati, alzati la cornuto, alzati l'abbetto! Pieno di sangue per terra, il tolitri, non si è alzato. Me lo so guardato, me lo so girato, me lo so risistemato a giacca. Mi ha detto papà, che è successo a mia figlia? Niente, due di passaggio. No, ma comprai scarpe, gli ho detto.